E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash Allora in questi ultimi giorni avrete visto molti video di Hearthstone Riguardo a uno spacchettamento, a cose dell'espansione, insomma la review E quindi avevo un po' tralasciato Geometry Dash Diciamo che comunque un video ve l'ho caricato dopo quella serie di Hearthstone Di Geometry Dash insomma E oggi facciamo Agility di Philipsman Allora questo è un livello che mi fece dannare quando l'ho finito Ci ho fatto 726 tentativi quindi potete immaginare quanto è difficile E vediamo perché non me lo ricordo sinceramente Mi ricordo solo che è della 2.0 ed è molto 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 frenetico Speriamo sia in grado di finirlo e non ci metta 16 anni Buona visione Mi devo scusare se in questo video ho usato dei toni di voce un po' troppo alti O comunque delle reazioni poco consone O comunque a volume di voce troppo alto Però era veramente un livello che lo odio con tutto me stesso E quindi averlo battuto è stata proprio una sensazione di rinascita Dopo i 726 tentativi incredibili impressionanti che fece la prima volta Ho messo molto meno la seconda e quindi sono esploso di gioia Scusate che questa cosa era doveroso Non lo farò in altre situazioni a meno che i livelli non saranno impossibili Continuiamo con il video Ok ragazzi Il livello comunque non ci ho messo troppissimo Per non ricordarmi per niente diciamo Però ci sono due parti e sono molto 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 impegnative C'è una mini wave strettissima sul 40% E ci sono delle ship bastarde Una subito prima della mini wave E una verso il 65% se non mi ricordo male Speriamo di farcela buona visione Questa parte della wave non è proprio una cosa buona 39 Noo 57 Ho saltato troppo lì perché devi fare tipo un micro leak Però non un micro leak Proprio micro 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 ma non troppo micro diciamo Non so se mi so spiegato Nooo no La wave di merda è impossibile O c'hai culo o c'hai culo lì È incredibile Nooo no 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 perché sto bug Dai non è possibile non mi è mai morto Quindi non sono mai morto qui manco Quando lo finirà prima volta Dai ma per favore perché cos'è 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 Perché Perché questo bug Maledetto Nooo no Le punte di merda qui No Ci credo Dai No 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 Che bug No questo è un bug schifoso Però dai Dove è morto Ero qui Ero fermo Ero dio buono Nooo no 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 Lufo di merda che mi si bagga tutte le volte Io veramente Non ce la posso fare Ecco 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 Prima ho premuto troppo piano e mi ha andato qui Ora ho premuto giusto nel mezzo giusto Un felino fuori forse E mi ha andato qua su Qua su Come cazzo si fa questa cosa dai perché è baggata sta roba ma non ci credo che io scelgo i livelli baggati Nooo l'ha passato c'era passato c'era passato non sono No io sono un giocatore di merda perché io questa volta l'avevo passato io mi sono distratto perché pensavo di essere morto Sono un coglione sono un deficiente perché questa gente cioè la gente brava a fare sta roba Alla prossima Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 64 tentativi di merda Sta cosa Vaffanculo a te E a tutto il Madonna ragazzi Non è possibile Quanto cazzo ci ho messo Non potete capire quanto cazzo ci ho messo 40 minuti di rec 40 minuti di fottuta rec Madonna ragazzi Ma non è possibile Hard demon questo Perché ci sono dei punti e non so Da easy demon Questo è un hard demon Cioè io non capisco ancora come la gente Faccia Ovviamente io Tutte le volte Tra l'altro sono il quarto al mondo 1352 xd 1057 Vedi è difficile questa roba Non è easy demon Non è easy 312 Cazzo sei Ah vabbè Te sei abbonato Che comunque Cosa hai finito Vlogbat Cosa hai finito Cosa Cosa Io sta gente Veramente Non Non No Ragazzi per questo video è tutto Vi ringrazio per l'evaluation Al prossimo episodio Faremo probabilmente O prize Perché è il prossimo demon E niente Vi saluto E ciao a tutti Ciao a tutti